Buongiorno a tutti, io mi presento, mi chiamo Francesca Frasca e sono una studentessa dell'Università di Bologna. Quello che vi presento oggi è l'applicazione del motore di gioco del programma per moderazione tridimensionali Blender applicato alla navigazione real-time della ricostruzione archeologica dalla quale stiamo lavorando da quasi un anno con il team di ricerca di cui faccio parte che sta lavorando a COS nel quartiere delle Terme Occidentali e che sta studiando in particolare le fasi di questo sito, di questo grande sito, le fasi proto-bizzantine. e parte di questo lavoro è stato oggetto della mia tesi di specializzazione ed è tuttora in corso perché le indagini sul campo si sono concluse recentemente, qualche settimana fa per cui adesso inizia la fase di elaborazione di tutti quanti i dati che abbiamo raccolto in questi tre anni di studio di quest'area. Questo è strato di un grande complesso, sito all'interno della città di COS che attualmente è un'area archeologica aperta al pubblico ed è molto vasta come potete vedere e quindi anche lo studio e la ricostruzione delle fasi che stiamo studiando in questo momento non è un lavoro che si concluderà nel giro di poco e anche in prospettiva di questo siamo stati orientati a scegliere Blender come software di modellazione perché tra i pregi che ha è sicuramente il fatto di poter accedere ai dati anche a distanza di tempo senza doverli convertire con il procedere dell'evoluzione dei formati del programma. È stato interessante pensare alla ricostruzione di quest'area perché nonostante sia lasciata aperta e quindi alla merce di chiunque vi passi danneggiandola anche si conservano molto bene alcune parti degli alzati, delle decorazioni dei pavimenti e di alcuni elementi di arredo per cui avevamo comunque una base di partenza di materiale oltre al rilievo bidimensionale anche a livello di documentazione fotografica molto buona e quindi questo sito si prestava bene a essere ricostruito anche per dare eventualmente nella prospettiva anche di una divulgazione allo grande pubblico dei risultati del lavoro per dare veramente un riscontro che dopo l'utente che poi va a visitare effettivamente l'area riesce a comprendere ancora meglio il lavoro di ricostruzione virtuale. Come ho già accennato abbiamo deciso di utilizzare Blender perché ha molti pregi oltre ad essere un programma open source con tutto quello che ne compete ha una buona base di partenza nel senso che l'utente che decide di avvicinarsi a questo programma non viene lasciato completamente solo nel senso che essendo un programma open source ha una community molto vasta che si occupa non solo di tutto quello che è i tutorial, gli accorgimenti, i consigli che ci si può dare per rispondere alle esigenze di ognuno ma è una community che risolve i problemi che ci possono essere anche a livello di programmazione di base del programma che magari per uno che non è, come nel mio caso, un informatico di provenienza può trovarsi di fronte a certi problemi e la presenza di una community di questo tipo sicuramente rende certe cose molto più semplici. Tra le sue caratteristiche richiede uno spazio ridotto per il suo funzionamento le ultime versioni infatti non richiedono un'installazione tradizionale del software sulla macchina ma funziona con una sentice cartella, quindi in formato portable e quindi questo sicuramente lo rende ancora più accessibile nel senso che per funzionare in maniera corretta non ha bisogno di un computer con una potenza rilevante come poteva essere qualche anno fa insomma per chi si occupava di grafica computerizzata. Nel nostro caso è stato fondamentale poter importare il rilievo bidimensionale in AutoCAD all'interno del mondo di Blender senza perdere la scala e quindi questo è sicuramente la base di partenza del lavoro di ricostruzione. Per le texture, per esempio, abbiamo potuto importare direttamente le immagini le fotografie di scavo e i rilievi che erano già stati effettuati. Inoltre, è possibile importare all'interno di Blender modelli realizzati con altri software. Alcuni di essi vengono gestiti bene, altri, tipo i modelli procedurali di CityEngine, si ha un po' più di difficoltà a elaborarli, però è utile sapere che si può fare. Di base possiede numerose geometrie primitive dalle quali partire per la modellazione e in più, appunto, soprattutto con le ultime versioni che sono state rilasciate, ha le funzionalità e caratteristiche che lo pongono molto in competizione con il programma di licenza pagamento, per cui comunque si riescono a ottenere buoni prodotti anche con un programma di questo tipo. Inoltre, e qua arriviamo al tema di questa presentazione, ha il suo motore di gioco interno che può essere impostato nelle modalità che l'utente decide di utilizzare senza avere particolari conoscenze del linguaggio di programmazione del software. Nel mio caso, ribadisco, io non sono un informatico, non conosco il linguaggio di programmazione che è il Python in questo caso, ma sono riuscita a impostare modalità di navigazione semplici che mi permettessero di muovermi all'interno del modello senza particolari difficoltà. Prima di entrare nello specifico, io sono riuscita, ho potuto imparare ad utilizzare questo programma perché ho partecipato ai corsi di grafica e visualizzazione scientifica del Cineca e loro sono stati nella mia base di supporto per tutto il periodo della tesi e comunque stiamo continuando a collaborare con loro come sempre a livello di supporto per lo sviluppo di questo progetto. La navigazione real time è interattiva perché abbiamo pensato che non era solo interessante poter esplorare il nostro modello ricostruito o i nostri modelli, nel senso che adesso, in questo momento, oggi non abbiamo solo un modello dato che l'equip sta ancora discutendo e sta ancora elaborando molti dei dati e la fase di modellazione sta producendo anche dei momenti di confronto nel senso che non si modella solamente con la finalità della divulgazione a corredo della pubblicazione tradizionale o per il pubblico ma ci stiamo confrontando i miei colleghi passo passo vedendo anche se quello che viene ricostruito effettivamente ha più o meno correttezza diciamo anche a livello architettonico se ha dei problemi e anche quindi questo si sta arrivando un ulteriore strumento per la fase di elaborazione dei dati. quando questa fase sarà terminata e quindi avremo uno o più modelli ricostruttivi quindi ipotetici sarà possibile navigare all'interno del modello e all'interno del modello saranno inseriti dei contenuti interattivi che quindi saranno consultabili dall'utente e all'interno dei game engine potrebbero essere inseriti contenuti di tipo grafico quindi fotografie, fotografie d'epoca degli scavi degli anni 30 fotografie attuali e quant'altro oppure oggetti tridimensionali quindi altre mesh, altri elementi che possono integrare la ricostruzione presentata per esempio trattandosi di un sito pluristradificato sono sicuramente interessanti poter far visualizzare anche le fasi precedenti o le eventuali fasi successive a quella che è la fase principale di studio in che modo? questi contenuti interattivi possono essere segnalati quindi adesso all'inizio avevamo pensato come accorgimento grafico a delle piccole sfere che si trovavano in punti precisi del modello alle quali l'utente si avvicinava che attivavano i contenuti questi contenuti sono attivati da dei sensori che quando sono raggiunti dall'utente permettono al contenuto di emergere e mostrarsi all'utente in più questi contenuti possono restare visibili quindi una volta attivati rimanere visibili all'interno del modello oppure scomparire quando l'utente esce dal raggio di azione del sensore questo permette anche di non avere un modello in cui si affastellano i contenuti e quindi si rende poi difficoltosa la comprensione del modello stesso questa è un'immagine appunto del game engine qua in primo piano per esempio abbiamo la pavimentazione ricostruita di uno dei vani di accesso di un complesso di battistero e l'immagine attuale della pavimentazione abbiamo deciso di inserire quindi anche le immagini del sito attuali perché molte di queste componenti non solo i pavimenti a mosaico o i pavimenti in oclusettile ma ci sono anche delle decorazioni parietali che sono lasciate alle intemperie non hanno nessun tipo di protezione e quindi è presumibile che da qua ai prossimi decenni parte di questa documentazione non sarà più visibile e quindi una delle funzionalità che potrebbe avere anche la collocazione di questi ulteriori contenuti all'interno dell'immagine è di renderli consultabili anche in una previsione di una mancata conservazione di questi elementi qua abbiamo un altro esempio e adesso vi parlo un attimo più nello specifico sulle impostazioni basilari del game engine allora, occorre che il modello ovviamente sia ottimato in ogni sua parte quindi la modellazione e il texturing che siano completati inoltre per quanto riguarda il texturing bisogna utilizzare assolutamente immagini di tipo jpeg o simili, tipo i formati di The Gimp che è stato il programma di elaborazione grafica bidimensionale che abbiamo utilizzato sempre per poter utilizzare il programma open source e non utilizzare invece le texture predefinite di Blender perché nella modalità di game engine non sono visibili, non rendono la prima parte di impostazione quindi prevede che per non appesantire il modello ulteriormente non venga utilizzata un'illuminazione interna al game engine ma abbiamo scelto di utilizzare un'illuminazione falsa cioè dotare ogni mesh di un ulteriore texture di cui abbiamo già sentito parlare che è il processo del texture baking che crea un ulteriore texture che dà la tridimensionalità all'effetto di illuminazione diffusa e di ombra questo rende il modello più leggero e quindi alla navigazione senza scatti è più agevole anche a livello di macchina viene calcolata in automatico in relazione alla mesh alla quale si riferisce rispetto a tutte le altre questo è un esempio questa è la visione della 3D view normale con il nostro solido e un piano quello che vediamo qui intorno non è un'ombra effettiva ma è un'ombra ricavata dalla texture di baking che è stata fatta sia sull'oggetto, sul solido sia sul suo piano di appoggio questa invece è la visione del game engine e quindi questa è la resa finale questo ovviamente è un esempio molto semplice ma mi serviva per dare proprio l'idea della resa e dopo bisogna scegliere dove collocare i nostri contenuti e impostare le modalità con cui noi desideriamo renderli visibili e questo è possibile facendo sì che essi si spostano producano dei movimenti e questo è possibile stabilendo lo spazio di spostamento di ciascun solido direttamente sulla linea temporale che è presente nel pannello di Logic Editor quindi noi stabiliamo che al secondo numero 0 il nostro solido ha una coordinata si colloca spazialmente in un punto e successivamente si colloca in un altro quindi lui calcola automaticamente il percorso del solido questa viene registrata come azione e sempre nel pannello di Logic Editor come potete vedere molto semplicemente si aprono le finestre la finestra della camera che viene in maniera molto intuitiva viene collegata al pannello dell'azione quindi nel tal momento questo oggetto compie il tal spostamento in più bisogna impostare questi sensori di vicinanza dentro il blender ci sono diversi sensori la miglior resa con la minor preparazione necessaria sono questi sensori di vicinanza che hanno un raggio di azione che si può stabilire proprio a livello metrico e che permettono anche di far sì che quando l'oggetto camera esce dall'area del sensore il contenuto torni a essere invisibile e questa è l'impostazione del sensore questo è il pannello del sensore questo è il collegamento tra il sensore e l'azione che abbiamo precedentemente registrato sulla timeline in più, una volta fatto questo passiamo alla modalità di navigazione vera e propria possiamo muoverci nello spazio impostando la modalità tramite keyboard quindi con le frecce spostandoci sulle tre dimensioni la sede delle X, delle Y e delle Z e impostare per ogni input dato con le frecce la distanza che vogliamo percorrere è utile sapere che si può anche associare la navigazione con il mouse per eventuali rotazioni però occorre sapere che per questo genere di impostazioni è previsto invece lo scripting in Python per cui richiede un livello di conoscenza del software più avanzato in ogni momento è possibile modificare tutte le impostazioni del PM Engine e per finire, è abbastanza fondamentale si può pensare di creare un file .exe del nostro motore del nostro file con il nostro motore di Game Engine e quindi produrre un vero e proprio gioco quindi è esportabile su altre macchine senza comunque prevedere che sia installato Blender infatti le modalità di visualizzazione poi di un'applicazione di questo tipo sono o con l'installazione del programma oppure come file .exe non sappiamo ancora al momento quale formato effettivo ospiterà la navigazione in real time di questi modelli comunque la volontà è di renderli disponibili una volta che si sarà concluso il momento di realizzazione della pubblicazione e alla quale intendiamo allegare un cd, non lo sappiamo ancora un supporto adeguato alla navigazione all'interno di questo grande sito ricostruito questo è l'esempio di impostazione del movimento in questo caso sull'asse Z possiamo regolare a livello di spostamenti in centimetri, in metri insomma le scale si possono stabilire a seconda delle necessità questo è un altro esempio preso direttamente dal motore di Game Engine questo è il portale del battistero e questa è la sua ricostruzione qua abbiamo un esempio di cui vi parlavo qui abbiamo un esempio di decorazione parietale che si ritrova in molti punti all'interno in questo caso del complesso del battistero che però come potete vedere è lasciata senza alcuna protezione agli intemperi attualmente è visibile, è stata rilevata è stata documentata è stata inserita all'interno della ricostruzione in scala noi non sappiamo se da qui ai prossimi 20-30 anni sarà ancora visibile quindi abbiamo voluto inserirla anche come contenuto interattivo nel modello proprio per una funzione anche di documentazione ulteriore e per concludere qui c'è il sito della Blender Foundation dentro la quale è possibile scaricare le versioni di Blender e tutto quello che riguarda la funzione la communities e i tutorials di base consiglio per chi volesse avvicinarsi insomma a un livello un po' più avanzato di questo software il blog di un ragazzo giovanissimo che è molto bravo il blog si chiama Blender Guru fa dei tutorial molto chiari, molto semplici ed è molto molto bravo è la pagina della missione in cui spieghiamo un attimino tutto il progetto tutto quello che stiamo facendo in questo momento e anche alcune delle ricostruzioni già terminate grazie 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 grazie